Giovedì avremo due gare in quattro di coppia quattro di coppia Master C, che sono quelli un po' più giovincelli intorno ai 40-45 anni e poi una in quattro di coppia Master E insieme a quelli che sono andati i secondi dietro di noi ai campionati italiani il Master C, il quattro di coppia, lo facciamo con due trestini due giganti buoni, 1,95, sono grossissimi fantastico avere i compagni di barca molto forti e poi il quattro di Master E penso che sarà un buon quattro anche quello perché sono ottimi atleti anche i nostri compagni di barca però devo dire che per noi la gara è sabato è sabato la gara del doppio e se vuoi ti spiego un perché il 1989 è stato il mio ultimo campionato del mondo e l'ho fatto in doppio con Massimo eravamo a Bled e per quanto mi riguarda è stato l'unico campionato del mondo a cui ho partecipato che non abbiamo vinto e quindi ho ancora gli incubi di quella gara che abbiamo perso a Bled nel 1989 quando l'anno scorso ho scoperto che i mondiali Master del 2017 sarebbero stati a Bled ho telefonato a Max ho detto Max andiamo a rimettere a posto la storia e così ci siamo trovati qua abbiamo cominciato ad allenarci abbiamo vinto i campionati italiani comunque vada comunque vada andremo a Bled per divertirci e per fare una bella gara no Grazie a tutti.